Chi vincerà la Coppa Italia? Atalanta o Juventus? Facciamo partire il sondaggio. Io purtroppo dico Juventus perché è... Ah no, non ancora, va bene, tra poco però lo teniamo in canna. Iniziate a rispondere. Brogna, volevo anche un tuo parere sull'Atalanta, visto che scomparivi prima. No, dicevo che, porca vacca, l'Atalanta davvero chapeau anche quest'anno, se non sbaglio. A un certo punto della stagione? Sì. Così che ha detto? Così che ha detto? No, ho detto, porca vacca, si può dire su Twitch? Ah, sì, sì. Dopo tutti i nicknames che ha letto me. No, diciamo che quest'anno, se non sbaglio, a un certo punto l'Atalanta era anche abbastanza lontano dal quarto posto. Forse verso metà stagione. E anche lì, no? Cioè, almeno, io devo ammettere che negli ultimi due o tre anni ogni volta dico, eh, l'Atalanta, ciclo, ciclo, finito, ciclo, finito. Invece, paradossalmente, questo, possiamo dire che a livello di Champions, di Europa League, di Europa in generale, il miglior anno di Gasperini. E mi impressiona tanto, soprattutto, come diceva anche Luca, essere arrivati in questo momento della stagione, clou con due finali, con la Champions a conquistare, in questo stato di forma psicopisico e tanta roba. Quindi, chapeau a Gasperini e al suo staff. Giusto ricordare lo staff, comunque, ogni volta. Sì, sì, perché... Che danni si prendono l'ombra. Io, infatti, faccio i complimenti a Allegri e al suo staff. Anche io a Pioni e al suo staff. Anche Pioni e al suo staff. Allora, è un play-discito. A De Rossi e allo staff che ad oggi ancora non c'è. Allora, io vi lancio questa provocazione. Intanto, mentre va il sondaggio su Atalanta e Juve, chiaramente, prima dicevamo, fuori onda, dicevo questa cosa qui sulla Juve, chiaramente, un girone di ritorno imbarazzante. Attenzione al Monza! Niente. Girone di ritorno imbarazzante. Bella partita, comunque, Monza-Fiorentina. Fiorentina-Monza. Fuori gioco, fuori gioco. Fuori gioco. Vabbè, 20 secondi dopo. Ha fatto continuare, ragazzi. Ha fatto continuare. Ha dato vantaggio, credo. Allora, dico questa cosa qui. Nelle ultime 15 partite... Oh, attenzione, González! Attenzione, ribattezzato Golzález dopo il gol di prima. Nico González! Di Gregorio! Tyson! Di Gregorio! Ma qual è sta provocazione? No, aspetta, commentavamo. Allora, dicevo, 15 punti in 15 partite da Juve. Due vittorie nelle ultime 15, un disastro e il secondo risultato peggiore di sempre della storia della Juve dopo la Juve del 1956. Pensate questa statistica aberrante della Juve di quest'anno. Sta perdendo punti contro la qualsiasi. Dico questo, ma secondo voi, se Lazio e Roma avessero cambiato allenatore un mese prima, la Juve sarebbe arrivata in Champions? Vi lascio con questo quesito. Sì, ci sarebbe arrivata lo stesso. Cioè, io penso che in un modo o nell'altro avrebbero presa l'uno. Sì, secondo me sì, nel senso che a parte che con i secoli è difficile ragionare, però di base questo rilassamento della Juve è anche figlio di una certa sicurezza di raggiungere in qualche modo l'obiettivo. Avesse avuto più strizza, secondo me, non avrebbero fatto. Ma sei sicuro di questo? Per me, ragazzi, se il campionato durava due partite in più, la Juve non ci ha dato. Bastavano un paio di partite in più. Sono arrivati in fondo talmente smaronati, talmente scoglionati, talmente tutto, che secondo me bastavano un paio, due, tre partite in più, la Juve rischiava fortissimo. No, anche perché si è visto nelle partite che doveva vincere, si è visto in campo un nervosismo e lì sono uscite le partite peggiori, in assoluto. Con la Lazio il ritorno l'hai recuperata sul finale, perché comunque a un certo punto loro sono scoppiati, evidentemente qualche cambio è sbagliato, ma ieri la Juve fa una partita pessima e dovevi vincere. Partite come contro il Genoa in casa, contro l'Udinese in casa, la Juve fa partite pessime. Quindi io questa cosa qui della sicurezza, secondo me se la squadra avesse dovuto fare il risultato, io non lo so in queste condizioni qui la Juve veramente con un paio di giornate in più come sarebbe andata a finire. Il 78% dice Atalanta vincerà la Coppa Italia. Secondo me la gente si è fatta un po' troppo inebriare. Poi la Juventus quando arriva queste partite qui non penso che… Cioè ripeto, magari se vince l'Atalanta io sono il primo a essere contento, ma secondo me la Juventus non lo so. Spirito di sopravvivenza dice… In qualche modo, in qualche modo, non lo so. In qualche modo? Sì, in qualche modo la porta a casa, non so, giocando di merda, non so, un tiro in porta, un gol… Dai che lo dice, dai che lo dice. Un tiro deviato al 93, manca il rigorino. Esatto, dai che manca il VAR, l'arbitro dai. Tra l'altro sai chi arbitra? Chi arbitra? Chi? Maresca. Aia. Sei sempre tu. È sempre lui. Sei sempre tu Maresca. Ah beh, però è meritato, posso dire, per la stagione che ha fatto, è stato uno dei meno criticati, ha sbagliato di meno, ha fatto delle grandi prestazioni. Senti, ma a proposito di Juve Salernitana, c'era il rigore su Iquemesi? Quello di Scherzny? Ah, è stato un episodio molto divertente perché… Beh, guarda, io mi sono fatto delle risate, c'era veramente quando ho visto lui che stava per scartare il portiere. No, è stato divertente in posto perché ho visto la mogliola di Gervasoni che l'ha fatta tipo sulla Rai, sul programma con altre persone e ha detto che è stato l'errore più grave del campionato, non dare quel calcio di rigore là, ma l'ha detto con una sicurezza che dici, boh, vabbè, sarà un rigore clamoroso. Io non ho visto la partita perché ormai la Juve, cioè, ci rinuncio, piuttosto mi faccio una dormita. e poi ho sentito Calvarese… Attenzione, un giro là! Niente, niente, segna neanche… Con le mani. Con le mani. E poi invece c'è stato Calvarese che ha detto no, assolutamente no, rigore, così. Boh, neanche secondo me era calcio di rigore, cioè, definirlo comunque l'errore più grosso, scandaloso del campionato. Non lo so se devi fare hype perché è finito il campionato e non sai cosa parlare. però sono dichiarazioni pesanti comunque da un ex-arbitro, cioè… Scusa, arbitriere, ti posso fare una domanda? Vai. Non ti voglio chiedere chi è secondo te il miglior arbitro in questo momento in Serie A. Ok. Ti voglio fare una domanda un po' più… Oh, rigore, rigore! Giallo per simulazione? No, non credo l'hobbiatato. Non sto capendo, secondo me lo deve ammodire per simulazione. Giallo per simulazione? Ma è per simulazione. Oh, se l'ha visto giusto dopo il vantaggio sul fuorigioco e qualsicorda… Mi ha troncato la domanda pepatta questo episodio. La domanda pepatta è non chi è il miglior arbitro della Serie A, ma secondo te chi è il miglior moviolista che c'è in tutte le televisioni, fra tutte le televisioni italiane? Il moviolista che ti piace di più, quello che quando… Magari mi trovo più d'accordo. Sì, quello che non so… Aspetta, vediamo se è successo qualcosa qua sul rigore. Non è replay di rigore questo? No, no, è questo, ma non c'è assolutamente nulla. Non sembrano tutti. Incredibile. Ma che arbitraggio clamoroso che stiamo vedendo in questo primo tempo, ragazzi. Beh, che vedere questo… Vabbè che eri dentro l'area di rigore, eri in posizione perfetta. È vero, è una simulazione incredibile. Vuol dire che di fiato ne hai da vendere. È una bella simulazione. Comunque… No, ma è da cartellino blu questo, eh. Cioè l'anno prossimo sarebbe stato cartellino blu e spuzione al tempo, eh. Comunque è bello come noi ci gasiamo per delle giocate dei calciatori. L'arbitrino si gasa, si eccita quando un arbitra azzecca la decisione. Questo è vero, però non ci avevo fatto caso. Quindi sto preferito, chi è? Allora, ti devo dire… A me piace… Ma intendi anche social o solo tv? Boh, anche social in generale, dai. Anche social. Anche social. E allora, per la sicurezza con cui dice le cose, anche se può sbagliare, è calvarese. Se intendi proprio come oggettività tecnica, mi piace in modo di esporsi anche Cesari. Lo preferisco. Grazie a non è nazionale? Grazie a non è nazionale. Questo non era assolutamente il gore. Allora, è un meme, cioè ti fa… è egolare, cioè lui è simpatico. Beh, no, però effettivamente sono molto decisi nelle direzioni poi che prendono, è vero. Questo è verissimo. Allora, di solito queste partite la Juve le vince in un modo o in un altro, ma stavolta mi sembrano davvero arrivati in fondo con le motivazioni. Ma secondo voi… Comunque ragazzi, una finale le motivazioni te le tira sempre fuori. Ebbè, no, esatto, se neanche una finale te le tira fuori. Ma a voi sembra che la squadra… Secondo me… Allora, c'è tanti che dicono che i giocatori giocano contro l'allenatore. A me non sembra questa cosa qui. A me sembra proprio un contesto completamente slegato. La società che se ne frega. La società che non dice niente, va bene così tutto, si lava un po' le mani. L'allenatore che ha inevitabilmente le sue colpe in questi tre anni, e l'abbiamo detto più volte, quello di non aver dato un gioco o comunque un'identità chiara alla Juventus in questi tre anni, non l'ha mai data. Non c'è stato mai un upgrade sul campo. Però, secondo me, società e giocatori, ad un certo punto, si sono un po' nascosti dietro le colpe dell'allenatore. Si erano diventate un po' un alibi per tutti. Cioè, è troppo… Tanto l'allenatore ha le colpe e diventa il parafulmine, e questo diventa un alibi per tutti. No, perché ieri la figura che hanno fatto tutti i calciatori in casa contro la Salernitana è colpa di tutti quanti. E così i calciatori hanno le loro colpe per tante altre partite quest'anno. E se non è troppo facile, ragazzi. Sai cosa ho notato ieri che ho guardato Juventus-Salernitana, oltre a tutte le cose che hai detto a te? Che comunque c'era proprio anche un ambiente allo stadio che è di un moscio. Stadio non pieno, senza tifo. I tifosi tra di loro che non sono chi vorrebbe tifare. E quelli che invece dicono non andiamo allo stadio, scioppero del tifo. C'è proprio un ambiente negativo sotto tutti i punti di vista adesso. Eh, ma forse anche per quello la società, ora che prende in mano la situazione, dia una scossa anche da quel punto di vista. Cioè, bisogna anche riportare l'entusiasmo. Perché è inevitabile. Guarda, arbitrino, che comunque non credo sia della Juve. Però dice, piuttosto che guardare la Juve, dormo. Ma sì, ma al dia che fosse la Juve, cioè nulla contro la Juve, ma anche il livello della partita era abbastanza inutile. I due verdetti erano stati fatti, la Juve in Champions, la Salernitana retrocessa. Ho capito, ragazzi, ma... A parte che ero via quel weekend, quindi non l'avrei guardato. A bombare, eh! Ehi, sai che stavo arbitrando dei settori giovani lì tedeschi questo weekend? Ma basta, con sta Germania però c'è... Ma non l'ho scelto io, non l'altro l'Axerno, non l'è che... Adesso tu l'arbitrinen, adesso vuoi veramente dirci che ti ferai l'Italia agli europei? No, ovvio che no. Ma come no? Ma ci mancherebbe? Ma come no? Scusa, perché no? Ma ti ferai Germania, certo? Ma non è nata in Germania, cosa vuol dire? Eh, che cosa ti dico. Secondo me, ragazzi, se dovesse scoppiare la terza guerra mondiale, Germania contro Italia, quello se ne va a combattere con loro. Sì, sì, sì. No, posso dire, ovvio che ti ferai l'Italia, no, è per il meme, però lo strizzo l'occhio alla Germania, se esce l'Italia, la Germania lo strizzo l'occhio. Per dire, anche a me la Germania, come nazionale, non è mai stata antipatica, dico la verità. Ovviamente tifo Italia. Anche... Ma ci mancherebbe. Considerazione sulla Juve, Gabomen, Buonfabio, Brogna? Guarda, comincio io. Io ho notato che tutto sto malcontento, in realtà, ormai è la normalità. Guarda, guarda lo stesso Daniele, il Milan, cioè, l'ambiente di queste ultime partite, chi per un motivo, chi per un altro, è lo stesso per tantissime. I tifosi del Napoli, cioè, anche noi, insomma, ultimamente, guardando le ultime partite, non è che stiamo stappando lo champagne. Cioè, secondo me, la crisi economica del calcio, e questo, secondo me, è l'argomento cardine, il fatto che ci siano pochi soldi, il fatto che ci siano anche dei paletti da rispettare, del fair play, sta portando a tutto questo, secondo me. Quindi ormai la normalità, Inter a parte, che ha aperto un ciclo, ha indovinato tutto, ma pure l'Inter economicamente non è che sta messa benissimo. Però, oltre quello... Oh, oh, calma. Perché per la... Eh sì, bella zitta. Inter è messa. No, no, sta di calma, perché ho detto l'Inter è messa come tutte, economicamente non è che... No, no, vabbè. Tanto il Banca adesso ha fatto il prestito nuovo con quelli là di Pimco, pam, 400 e rotti milioni sopra. Sì, e poi l'anno prossimo deve aprirciare perché... Ma che se ne fredda, intanto 400 milioni sono qua sul tavolo, soldi, soldi così... Intanto... Dove, non li metterò, eh? No, dove? Sì, a tutto questo, secondo me, va aggiunto pure un po' una mancanza dei dei nella progettualità, perché per quanto i soldi non stanno un po' dappertutto, a Juventus, fino a qualche anno fa, c'aveva una situazione economica abbastanza importante, poi dal post-Ronaldo, diciamo, col Covid, eccetera, si è un po' rovinato tutto quanto. Però non ci sono state neanche le idee che poi hanno portato a... No, le idee si c'erano, ma sono state... No, intendevo ovviamente... Adesso voi spiegatemi come faccio a prendervi sul... Cioè, come faccio a prendervi sul... Con questo che mi fa così all'orecchio. Questa cosa qui è una delle cose preferite di Brogna, quando viene a Milano glielo faccio sempre a Brogna, e Brogna devi vedere com'è. Ehm... 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 Ehm...